Gli altri due esercizi, via, plank isometrica per gli addominali e lombari in maniera isometrica con la gimbal alla spalliera, sempre 8 round da 20 secondi. Gli altri due esercizi, via, un po' più giù andrà. Qui del Verdi, allenamento isometrico, posturale. Ho preso squat isometrico, più trasverso isometrico e lavoro sulla coscienza. Serie da 20 secondi per 8 minuti. Forza, c'è chi ruotare più che puoi. Sì, benissimo. Allora spingi, da fuori, prenditi il tuo bolso e stacchi la presa su questo mare. Allora lo spingi tu e lui lo fa bene. Vai a prendere il costume. Fatelo una volta a destra e una volta a sinistra. Fatto bene tutto il passaggio. Stacchi. Però devi spingere sulla spalla omologa, cioè se vai col destro sulla spalla sinistra sua. Boom. E subito prendi il costume. Io gli stai prendendo sempre il destro e tu gli stai prendendo sempre il sinistro. Cambiate. Tu sempre il sinistro gli stai prendendo, ora prendigli il destro. Stacco, mi libero e spingo. No, devi spingere lui. Quindi partite. Quello sta marcando. Ok? Quindi mano sulla spalla e l'altro braccio alto. Braccio alto. Sei qua. Tu cosa fai? Invece ci passi dietro e gli vai a prendere il costume. Tu ti liberi dal costume. Stacchi. Ok? Ok. Ora tu vai a marcarlo e ripetiamo tutto. E così l'esercizio deve... Ah. Una spiegazione e un motivo. Sì? Boom. Ok. Questo qua 5 minuti e già imparate qualcosina. Ora arribe talvolu ava. No. 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 No mambo.